Gli uomini dicevano Armonia cosmica attraverso Gianna a cura di Franco Lanari Ciao, mi chiamo Laura sono venuta a portarvi un po' di soffio di leggerezza perché io mi trovo in un luogo dove le vibrazioni sono molto rarefatte e la luce diffusa è bianca latte ma molto rarefatta spero con questo mio dire di farvi sentire più leggeri come io ora sono sto bene qui ma non mi fermerò più sto andando altrove io mi sento come se avessi 28 anni ma non so se ricordo molto di quando stavo sulla terra forse perché non ero pienamente cosciente della mia situazione vivevo come una farfalla non avevo pensieri gli uomini dicevano che ero stupida ma io non ci soffrivo perché per me andava bene così volavo 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 non so poi mi sono trovata qui ma ora sto per partire ve l'ho detto sento come una forza che mi dice di muovermi verso destra io sono sempre stata bene mi sono sempre grazie Laura tu ci hai voluto esternare la tua viva gioia entità sì vi mando un bacio ciao 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 ciao